Con decreto del Presidente, la provincia di Salerno ha approvato il progetto esecutivo canterabile relativo ai lavori per l'aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nei comuni di Salerno, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Albanella e Roccadaspide. Il progetto esecutivo prevede una serie di interventi di tipo strutturale e manutentivo. La sicurezza degli edifici scolastici, dichiara il Presidente della provincia strianese, è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente e famiglie. Per noi quindi è elemento prioritario nell'attività dell'ente provincia.